Revoca delle deleghe agli assessori, la prossima settimana ci sarà la nuova giunta, qual è il pensiero dell'opposizione, del centro-destra in particolare? Facciamo una battuta, il sindaco ha detto che ha congelato le deleghe degli assessori, io penso che gli assessori con le loro deleghe siano già congelati e insieme al sindaco dal primo giorno in cui hanno iniziato ad operare, perché questa città non si è assolutamente accorta in questi anni di avere né un sindaco né un'aggiunta, se non per atti sbagliati e per attività mai portate a termine. Io penso che questa città abbia bisogno di ben altro che un semplice congelamento di deleghe o un cambio di assessori. Questa città ha bisogno di una nuova amministrazione perché questo sindaco non è sicuramente in grado di gestire le situazioni, gli avvenimenti che stanno accadendo in città da due anni a questa parte. È evidentemente, esclusivamente, solo, probabilmente, un'operazione dettata da questioni di faute interne al PD, ovvero d'Alfonso contro Di Matteo, a seguito di quello che è accaduto nell'ACA, che sta accadendo all'interno del rinnovo dei vertici dell'ACA, ed è una questione di faute interne sia del PD che di altri gruppi di maggioranza, ma, certo, sicuramente non accadrà nulla di eclatante che porterà questo sindaco, questa amministrazione, a svolgere meglio il proprio compito. Finalmente una presa di coscienza dell'insufficienza di questa giunta per i due anni e mezzo che sono passati. Quindi è evidente che c'era bisogno di sostituire delle persone, c'è bisogno di sostituire appunto chi finora ha lavorato e speriamo che le sostituzioni siano adeguate ai bisogni della nostra città. Il vostro resta comunque un giudizio critico sulla giunta Alessandrini? Assolutamente sì, assolutamente sì. Uno dei motivi principali è decisamente la delega all'urbanistica, che in questi due anni e mezzo è stata completamente dimenticata, è stata mantenuta dal sindaco, ma nulla purtroppo è stato portato avanti rispetto ai bisogni della città, alla pianificazione, allo sviluppo che questa città dovrebbe avere e che merita.